Buongiorno, come vedete per la seconda volta consecutiva sono solo senza Leo, non vi preoccupate, non ha niente di particolare, ha sottotutto un disturbo e chiaramente a una certa età per recuperare ci vuole un po' di tempo. Siamo qui davanti allo Stodio Comunale con Luca per parlare dell'Arezzo, domenica passata c'è stato il primo turno preliminare Coppa Italia di Serie D, l'Arezzo penso con il Foligno 1-0, Foligno è una squadra di giovani che dovrebbe disputare un campionato di metà classifica che ha come obiettivo primario la salvezza, l'Arezzo come sappiamo tutti, questo bene dirlo, è una squadra che deve partecipare a questo campionato di Serie D esclusivamente come protagonista, da qui nascono un po' già le polemiche che si sentono sui giornali o si sentono chiaramente anche nelle piazze dell'Arezzo. La partita di domenica è stata una partita anche sfortunata perché l'Arezzo ha avuto le occasioni tranquillamente per pareggiare effettivamente la vittoria del Foligno è maturata in conseguenza di un calcio di gore e secondo me anche abbastanza dubbio, alcuni altri episodi dubbi sono stati anche nell'area della squadra Foligno, l'Arezzo ha avuto delle occasioni ma sinceramente io parlo di quello che vedo, non mi è sembrata una squadra, l'Arezzo messa in campo domenica, una squadra che possa dominare questo campionato, in che senso? Nel senso che ci sono alcuni giocatori importanti per la categoria che hanno già vinto questi campionati e che si vedono in un campo tecnicamente anche di valore superiore ma la squadra mi sembra sicuramente che la squadra sia un po' slegata, nel senso che se la squadra Maranto pensa di fare un campionato di Serie D, ripeto, da protagonista come tutti ci aspettiamo e come tutti vogliamo, sicuramente in mezzo al campo deve essere rinforzata, rinforzata dagli elementi che il mister Mariotti avrà nella rosa ma non da quelli visti perché se giochiamo con Aliperta chiaramente che è un bravo regista e due diciamo centrocampisti perché l'Arezzo gioca a centrocampo a tre che non riescono a coprire, a essere agonisti perché questo è il campionato dove ci sono anche molti giovani, la difesa va in difficoltà, gli esterni che sono giovani mancano anche di esperienza e i due centali si trovano alcune volte una contro una, quindi una squadra che dimostra di avere grandi potenzialità offensive perché Foggia, Cutro e Strambelli sono giocatori sicuramente all'altezza e anzi anche forse oltre in questa categoria, un centrocampista, un regista bravo, due centali che non sono vari, gli altri chiaramente giocatori devono essere messi in modo perché l'Arezzo possa far sì che assuma i contorni di una squadra di calcio amalgamata, quello che ho visto domenica, quello che abbiamo visto mi è sembrato una squadra un po' squilibrata, mister Mariotti è professionista, fa questo di lavoro, è il suo lavoro, fa l'allenatore quindi dovrà cercare di calibrare bene le scelte anche perché domenica abbiamo assoluto la prima partita del campionato con una squadra molto forte, il Trestina che hanno arrivato a terza in classifica dopo il Montevacchi e il Trastevere, quindi speriamo che quello che abbiamo visto sia soltanto frutto ancora della preparazione perché se no sinceramente il campionato di Serie D diventa un campionato molto difficile. Ho fatto questo monologo da solo Luca, non è facile parlare da solo, ho cercato di parlare della partita, speriamo, facciamo tutti il tifo, ultima cosa che personalmente esprimo, anche la scenetta, secondo me è una scenetta che ho visto domenica, a fine partita i giocatori sono andati sotto la tribuna, non è a me un aspetto, parlo personalmente, che piace molto, nel senso i giocatori devono andare tutto in campo, i tifosi fanno i tifosi, a fine partita ognuno tira le somme, cioè secondo me andare sempre sotto la curva è quasi un aspetto giustificativo della squadra, le giustificazioni le abbiamo finite, anche perché i giocatori fanno questo di lavoro e quindi loro giocano, si impegnano, secondo me l'impegno l'ho visto, poi a fine partita se vinciamo la partita possono andare anche sotto la curva, ma tutte le volte che perdiamo speriamo che non accada mai più, che i giocatori vadano sotto la curva a giustificarsi, secondo me non è un aspetto, a me non piace, comunque questa è una scelta personale, vediamo la partita di domenica e poi ci aggiorniamo.